Un grande traguardo quello raggiunto da Lanzi Trasporti e Logistica. L'azienda ha infatti festeggiato nei giorni scorsi il suo sessantesimo compleanno. La storia di questa importante realtà del nostro territorio è strettamente legata alla storia stessa della famiglia Lanzi. Oggi festeggiamo 60 anni dalla fondazione nostra azienda e ne siamo molto orgogliosi perché la passione e l'impegno profusi da mio nonno e poi da mio padre e ultimamente da me e mia sorella hanno portato finalmente questo risultato tanto atteso e di grande fiducia anche per il futuro. Siamo nati come autotrasportatori e poi ci siamo sviluppati cercando di innovare e anche rinnovare seguendo quelle che erano le richieste anche del mercato. Ci siamo trasferiti qua all'interporto dove abbiamo costruito una nuova sede dove riusciamo ad integrare l'attività dell'autotrasporto con quella della logistica, una logistica integrata. Abbiamo anche realizzato un termine del ferroviario, abbiamo proprio il binario che entra dentro la nostra azienda e questo ci consente di affacciarci su nuovi mercati, soprattutto quelli internazionali dove il trasporto ferroviario è più diffuso. Devo dire che appunto questo continuo rinnovamento, queste innovazioni che abbiamo implementato negli ultimi anni ci danno grandi risultati e soprattutto a livello internazionale anche un forte riconoscimento. E questo ci dà ancora più stimolo per cercare di progredire sempre anche perché credo che quanto fatto finora sia stato sentato proprio ideutico per continuare nello sviluppo dell'azienda e delle varie attività. Dal 1955 la famiglia Lanzi è continuamente impegnata a migliorare, ad innovare e ad ampliare i servizi offerti mettendo a disposizione del proprio lavoro tutta l'esperienza, l'energia, le risorse e soprattutto la passione di sempre. Questa è una giornata fantastica assolutamente per l'azienda ma anche per la nostra famiglia. La nostra è un'impresa familiare, noi diciamo sempre che la nostra è una famiglia aziendale invece proprio perché è nata dall'idea di un ragazzo di 24 anni, oggi è un ragazzo che ne ha 83 e che però è stata supportata da tutta la famiglia, hanno lasciato tutto per seguire questo ragazzo e il suo sogno. E da allora è stata la famiglia a fare gruppo attorno a lui e ancora adesso lui ci guida e tutta la famiglia ma proprio tutti è impegnata in azienda, ognuno con il suo ruolo. Per cui per noi è veramente una festa non solo dell'impresa e dell'azienda ma è una festa per la nostra famiglia e quindi siamo veramente orgogliosi e felici di questo perché la passione che ci ha trasmesso mio nonno e mio padre è insita nel nostro DNA, chi nasce in Lanzi ha la passione per questo lavoro e quindi siamo veramente felici di aver compiuto questo traguardo che però per noi è solamente un pezzo di strada ce ne sarà ancora tanta in tutti i prossimi anni ancora da fare e quindi speriamo di farla sempre tutti uniti come è stato finora. Lanzi Autotrasporti e Logistica In via Bon numero 6 presso l'interporto di Parma a Bianconese di Fontevivo www.lanzitrasporti.it